Buonasera, siamo qui alla seconda giornata del Formia Film Festival, abbiamo come ospite la grande attrice Maria Rosario Maggio. Volevamo chiederle, sappiamo che sta lavorando alla sua opera prima come regista, può anticiparci qualcosa? Ho finito per amore un cortometraggio, per amore di un ragazzino come Vincenzo, come Vincenzo, bello, quegli occhi belli, eccetera, si chiama Hey You ed è una storia raccontata tutta su musica, tutta musica classica, ma arrangiata e rocca ed eseguita dalla premiata Federica Valle. Tra poco ne saprete a luglio in un grande festival che rappresentate, ma io sono qui soprattutto perché per l'unice e perché tanti bambini come Vincenzo, piccoli di Vincenzo, in questo momento in Europa hanno salito il terremoto e allora c'è un mio numero che è 45596 ed è il numero a cui mandare con un sms un euro, la telefono fisso due euro ed è importante perché in questo momento ci sono 1.750.000 bambini al conteggio attuale che hanno bisogno di aiuti con Vincenzo perché alcuni sono rimasti sotto le macerie, si sono fatti male. Allora i bambini come te insieme alle mamme e alle mamme che devono fare? devono aiutarvi perché ci sono i bambini che hanno chiesto, siete voi che potete fare un mondo migliore, quindi uno più si occupa dei bambini più il mondo può essere bello, è giusto? A te piace il cinema? Il cinema ti può raccontare tanti messaggi positivi, tante cose importanti. Vedendo il telegiornale uno esce con il cuore e poi si dimentica che riceve molti piano che in quel bosco del mondo vengono seguito questo superfugibile della Mon base. E noi vi vogliamo dire sabbia se la nostra persona, se la nostra persona esce con ilnego. Semplicitli. Il negozio forte, il resto, il resto, il resto, il resto. Senti, bravo, aiutiamo tutti i bambini, aiutiamo tutti i nepali, veramente la mia nepali, lei ha detto che è molto importante questa carica, è un onore ma anche un onore, perché è una grande responsabilità, stavo dicendo, davvero, non è inutile lamentarsi che le cose vanno male, l'unico modo per costruire un po' la migliore, per fotografi dei bambini, è che sono loro che saranno il mondo del domani, quindi più loro sono sicuri che hanno una buona vita, il migliore sarà il mondo, Tu che vuoi fare da grande, licenza? Il tuo lo sai ancora? No, più o meno, ti piacerebbe male? Fai poliziotto, poliziotto, capisci, che responsabilità, vuole fare poliziotto, quindi in qualche modo proteggere, giusto? Proteggere e scoprire che chi fa le cose fatte male, va bene, e chi ne fa bene, premiato, giusto? E qui, ecco, grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie a incenso, grazie a incenso.